C'è un documento video vergognoso che testimonia quanto sia propagata la cultura dell'odio. È un video realizzato dalla Lega di Lampedusa e postato nelle loro pagine Facebook. Si sentono e purtroppo si vedono le urla che incitano violenza, stupro contro la capitana Carola che è stata arrestata. Sfreggiano soprattutto un'isola, da sempre si è dimostrata più umana e civile di buona parte del nostro paese. Si sentono e si vedono urla, frasi sessiste contro questa ragazza, non per le decisioni prese nel suo ruolo di capitana della nave ma in quanto donna. Conferma quanto siano ancora indietro nei valori umani e di parità questi uomini che hanno urlato, inneggiato alla violenza. Hanno vomitato odio contro Carola. Dimostrano quanto invece toste, quanto toste e coraggiose sono e possono essere le donne. Ad ogni modo gli autori di queste frasi di violenza e di minacce di stupro spero proprio che vengano individuati, denunciati, processati, così come verrà processata Carola. Perché questi uomini hanno commesso un reato e documentato, molto più documentato di quello che è il reato contestato a Carola. Ed è un reato grave, è un reato che deve essere perseguito. Come perseguiti devono essere gli autori. Non sarà difficile a Lampidusa individuare e denunciare chi ha urlato, chi è stato lì a incitare allo stupro e alla violenza. Questo reato non può essere lasciato così.